Ciao a tutti ragazzi, oggi cambiamo location perché parliamo del Pentolami Sea to Summit come vedete ho qua acqua e fornello perché adesso lo andiamo a utilizzare, vediamo quanto tempo ci vuole a bollire l'acqua e naturalmente ve lo racconto e vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa iniziamo subito facendo bollire dell'acqua, so che la differenza la fa il fornello ma da oggi per quanto riguarda questo tipo di recensione utilizzeremo sempre lo stesso fornello e la stessa bombola per intenderci sono il fornello alla bombola di Decathlon quindi utilizzeremo sempre loro per quanto riguarda il kit che troviamo ve lo faccio vedere subito all'interno in questo caso perché ci sono diversi kit nel mio caso troviamo un bicchiere che contiene fino a 500 millilitri una scodella praticamente in cui si può mangiare pasta, riso eccetera che contiene anche lei fino a 500 dichiarati ma probabilmente arriva anche attorno ai 700 dunque ci sta un bel po' di roba e poi la pentola vera e propria che arriva fino a un litro e 50 quindi un litro e mezzo anche se tenete conto che il massimo d'acqua che si può inserire all'interno è di un litro non si può andare oltre o meglio Situ Summit consiglia di non andare oltre partiamo subito così nel frattempo poi mentre bolle vi racconto il pentolame vado a mettere esattamente un litro d'acqua all'interno della padella poi tenete conto che con un litro d'acqua ci si può fare qualsiasi cosa quindi io ho messo un litro e un litro d'acqua praticamente con i pastiglio filizzati potremmo cuocerci di tutto e di più e farci anche un piatto di pasta più classico a questo punto vado a chiuderla col suo coperchio mettendo anche le alette laterali così ecco questo è un grosso problema che ho riscontrato ed è capitato subito in diretta praticamente qual è il problema? essendo che questa pentola si va a ripiegare su se stessa nel momento in cui noi andiamo a mettere sopra il cappuccio e facciamo un po' di pressione per andare a chiudere le alette quindi per diciamo sigillare la pentola col suo coperchio capita alle volte che magari si fa un po' troppo a pressione e va a schiacciarsi la pentola quindi tutto quello che abbiamo dentro praticamente fuoriesce in questo caso è dentro dell'acqua quindi vabbè non ho recuperato l'altra però immaginatevi avere dentro acqua bollente che potrebbe cadervi addosso oppure a me è capitato magari dovendo scolare la pasta di avere dentro la pasta succede la stessa identica cosa e si va a esce tutta la pasta cioè praticamente dovete ricocerla è un grosso grosso problema vi assicuro è un problema e a me è capitato fin troppo spesso a questo punto visto che ho perso acqua devo andare a rabboccarla torniamo al nostro litro e lo richiudo sperando che non risuscita la stessa identica cosa ok e andiamo a bollirla quindi ok facciamo partire un cronometro così vediamo in quanto tempo bolle innanzitutto vi racconto parte inferiore della nostra pentola in acciaio inossidabile naturalmente perché ci andrà contro il gas quindi deve essere in acciaio inossidabile mentre tutto il resto è fatto in silicone un silicone comunque che non si va a decomporre anche ad alte le temperature come vi dicevo la pentola si schiaccia per non diventare più piccola è una pentola che può portare come dicevo fino a un litro massimo bisogna fare molta attenzione quando utilizziamo perché ci sono delle norme di comportamento ovvero bisogna aspettare una volta che abbiamo scaldato la nostra acqua bisogna aspettare una trentina di secondi prima di poterla toccare perché sarà bollente anche tutta la pentola compreso il coperchio e tutto il resto dobbiamo fare attenzione che non esca la fiamma attorno alla nostra pentola quindi la fiamma non deve arrivare sulle parti laterali a contatto col silicone e soprattutto dobbiamo fare attenzione che possa fuoriuscire del vapore caldo perché comunque qua ci sono dei bucherellini per poter andare a scolarla e naturalmente bisogna fare attenzione che non esca il vapore caldo è una pentola per quanto riguarda la manutenzione che non si può lavare in lavastoveglia va lavata a mano è comunque abbastanza semplice davvero anche pulendola in qualche ruscello eccetera non abbiamo grossi problemi l'unico punto in cui tende ad accumularsi un pochino di sporco è dove c'è in rilievo scritto un litro, un litro e mezzo, mezzo litro eccetera che essendoci un po' di rilievo si accumula un po' di sporco però per il resto è molto molto semplice pulirla a mano mi raccomando mentre queste altre, le altre due date in dotazione si possono pulire anche in lavastoviglie questa no io sinceramente la sto utilizzando da più di un mese non ho avuto problemi di graffi anche utilizzandola, buttandola nello zaino così nessun problema di graffi quindi da questo punto di vista sicuramente una pentola che durerà nel tempo vediamo un attimo se sta bollendo ci siamo quasi quindi comunque molto molto veloce e come vi dicevo bisogna fare molta molta attenzione perché la parte in silicone tende a scaldarsi anche lei si scalda molto dobbiamo aspettare anche forse un minuto una volta che l'acqua è arrivata a ebollizione però comunque ci vuole davvero davvero poco ok in questo momento l'acqua sta iniziando a bollire siamo a due minuti e mezzo quindi diciamo due minuti e mezzo ci sono voluti tendenzialmente tenete conto che è molto meno rispetto magari che una pentola più tradizionale una pentola magari più da campeggio eccetera questa proprio ha una diffusione del calore fatto sì che bolle molto molto prima adesso il problema sta nel scolarlo quindi cosa dobbiamo fare innanzitutto vado a spegnere la bombola devo aspettare almeno un minuto perché davvero anche toccandola qua nella parte laterale posso toccarla qua in alto magari togliere il coperchio nessun problema però le parti laterali sono veramente veramente calde quindi aspettiamo dovremo successivamente se siamo andati a mettere all'interno del cibo eccetera riandare a chiuderla quindi riutilizzare gli stessi laccetti laterali per chiudere il coperchio e fate molta attenzione perché in questo caso l'acqua all'interno è davvero calda quindi c'è il rischio davvero di bruciarsi per quanto riguarda invece visto che intanto aspettiamo che si raffredda la bontola vi racconto le due scodelline che troviamo in confezione il bicchiere è abbastanza generoso come dimensioni nel senso se vi fate un tè comunque ci sta dentro un mezzo litro d'acqua quindi un tè da mezzo litro d'acqua è abbastanza anche lui si scalda tutta la parte attorno quindi quando lo dovete andare a prendere non potete impugnarlo normalmente come se fosse un bicchiere ma dovete prenderlo nella parte superiore dove c'è la banda grigia che è plastica più spessa e lì non si scalda tendenzialmente comunque tiene abbastanza il calore se vi fate un tè per 5 minuti lo tiene caldo senza nessun problema non diventa subito freddo poi dipende anche dalle condizioni atmosferiche in cui siete ho trovato molto utile anche la padellina questa non è possibile metterla sul fuoco mi raccomando lei non dovete metterla a cucinare perché sennò la bruciate all'interno ci stanno comunque 200-300 grammi di pasta dipende un po' anche dal formato di pasta però veramente all'interno ci sta davvero tanto cibo e anche risotti eccetera nessun problema anche lei ha il medesimo problema che se mettete all'interno delle zuppe tenderà a scaldarsi e quindi dovrete assolutamente appoggiarla per poter mangiare non riuscite neanche a tenerla nella parte inferiore quindi diciamo che forse non è proprio l'ideale se fate delle zuppe o dei risotti almeno che non riusciate veramente ad appoggiarla a questo punto direi che la pentola si è raffreddata io per scolarla dovrei andare a chiudere la parte del nostro coperchio ok e prendendola lateralmente tenete conto che brucia ancora un pochino ok dovrei andare a sollevarla e tramite i fori messi nella parte che abbiamo esterna andare a scolare quello che abbiamo all'interno naturalmente se abbiamo fatto della pasta se abbiamo a scolarla oppure se si è andato ad asciugare l'acqua perché abbiamo fatto un cibo che tendeva ad asciugarsi nessun problema nel caso dovessimo fare un tè a questo punto io vabbè ho fatto bollire l'acqua prenderei il bicchiere e gliela farei cadere semplicemente dentro come dicevo devo sollevarlo dalla parte esterna perché in questo momento la parte laterale inizia a diventare bella calda se riesco a sollevarlo solamente dalla parte esterna e così andiamo a cucinare secondo me è un kit che per una persona è anche fin troppo nel senso se si fa in due si riesce benissimo a utilizzarlo a mangiare da soli probabilmente ad esempio la scodella potrebbe non servirci in generale secondo me è un kit che svolge bene il suo lavoro porta a ebollizione l'acqua abbastanza velocemente alla fine è pensato per il trekking quando nel trekking comunque praticamente dobbiamo bollire quasi sempre l'acqua per farla mangiare quindi questo basta e avanza è leggero comunque leggero nello zaino occupa veramente poco peso quindi diciamo che ha sicuramente delle feature per i trekking pensate veramente molto bene per quanto riguarda il prezzo sito sito summit secondo me viene venuto sugli 80-90 euro online lo si trova a 67 euro secondo me ci sta perché comunque è veramente molto leggero e occupa poco spazio poi comunque pensate che è per due persone quindi se tendenzialmente vogliono smiezzare anche il costo sono 35 euro a testa quindi ci stanno questo è tutto per quanto riguarda il kit cucina io ve lo consiglio solamente se fate trekking o true hiking per quanto riguarda l'alpinismo ve lo sconsiglierei perché va utilizzato solamente un fornello tradizionale e quindi se c'è tanto vento tendenzialmente l'acqua si bollirà molto più lentamente campeggio sì ci può stare ma penso che le pentole dal campeggio in quel caso siano decisamente migliori quindi secondo me per il trekking è davvero ottimo mi raccomando fate attenzione però soprattutto quando andate a chiuderlo che non vi si chiude la pentola perché se vi succede come è successo a me prima è un casino detto ciao ragazzi una speranza che sia stato esauramente esattivo anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao